Cari amici ben trovati, oggi è domenica che per tanti è stato a lungo, per tanti di noi anche il giorno del riposo, del tempo libero, dello spettacolo. Allora vogliamo parlare di come alcuni artisti trentini si stanno dando da fare. Il caso del burattinaio Luciano Gottardi, uno dei più noti, che ogni domenica alle 17.30 propone ai ragazzi, alle famiglie, i suoi spettacoli con questi pupazzi, con questi burattini che raccontano le storie, le fiabe, talvolta anche musicali. Tutto rigorosamente in diretta con l'aiuto del figlio Giacomo che lo supporta per la diffusione tramite Youtube e gli altri social. Alla domenica poi le storie di Gottardi, che è stato anche animatore di gruppi giovanili, sono storie bibliche. Un'ora da gustare, quindi attraversando, attraverso appunto i pupazzi e i burattini, addirittura la storia sacra. Una risposta creativa che vi segnaliamo per questo giorno, che vi auguriamo comunque di festa. A risentirci.